La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon martedì a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Sfogliamo le pagine dei quotidiani e vediamo quali sono le principali notizie. Prima pagina del mattino nazionale, si parla del governo, vediamo il titolo di apertura. Conte chiede la verifica, ma è scontro sulla giustizia. Il premio era gennaio, ripartiamo, intercettazioni, tensioni, PD, Movimento 5 Stelle, Mattarella, evasione indecente. Poi gli articoli correlati, democratici nella morsa destra-sinistra, Renzi, Calenda e Sardine. Da quando il Partito Democratico ha deciso di fare il governo con il Movimento 5 Stelle, sono nati in Italia due nuovi partiti, entrambi alla destra, quello di Renzi e quello di Calenda. E' un movimento di protesta che potrebbe diventare anche un partito alla sua sinistra, le cosiddette Sardine. Gli altri articoli, le interviste, la Dem Pinotti con troppe liti, non si va avanti. Poi ancora l'intervista al Rosato di Italia Viva, dialogo ma basta attaccare Renzi, per quanto riguarda la manovra, spese sanitarie, addio al tetto per le detrazioni. Centro pagina, il calcio, questa sera la sfida per il Napoli contro il Genk, sfida decisiva, non soltanto per la qualificazione in Champions, ma anche per l'allenatore Carlo Ancellotti. Vediamo infatti il titolo, Ancellotti con la valigia. Alla vigilia del Genk, pensiamo a passare, poi si vedrà Napoli e Carletto, arrivati ai titoli di coda, in Pol Gattuso, normale essere in discussione, se non va è giusto chiudere, queste le parole dell'allenatore ieri in conferenza stampa. Il punto, la scintilla che non è mai scattata e poi gli rifiuti contro De Luca, questo cambiamo argomento, il caso dei rifiuti, delle busse di spazzatura lanciate contro il governatore della Campania, partono le indagini su insurgenze agli aggressori, due giovani del centro sociale, c'è la regia di insurgenze secondo la questura di Caserta, dietro il lancio di sacchetti di rifiuti contro il governatore De Luca. L'inchiesta di Napoli, lavori gratis alla barca, l'accusa al PM di Avellino. Nei box in alto, la cultura, l'ultima dell'Unione Europea, quel semaforo sugli alimenti che sa di beffa per il Made in Italy, e poi le commedie sul Rai 2, Salem da Napoli, porto il teatro in TV per riderci un po' su, e per lo sport e politica, doping, le accusi alla Russia, Olimpiadi vietate per quattro anni. Andiamo in basso, andiamo in Finlandia, per gli esteri, è stata eletta la più giovane premier del mondo, peraltro anche una donna, vediamo infatti il titolo, la più giovane premier al mondo, figlia di due madri, e poi la polemica, giù le mamni da Checco Zalone, l'arci italiano. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre per quanto riguarda le prime pagine, andiamo a Salerno, sul mattino di Salerno, vediamo, si parla di luci d'artista, e la parte del commercio si pensava, si sperava che potessero aumentare quantomeno le spese anche in questo periodo natalizio, ma vediamo che c'è invece la polemica, pare che luci d'artista non riesca ad attirare acquirenti nel Salernitano. Vediamo, negozi, la crisi sotto le luci, vendite in calo del 30%, l'effetto luminario funziona solo per la ristorazione, i commercianti, shopping col freno tirato, servono parcheggi e nuove iniziative. E per l'ospitalità, alberghi e un B&B, niente pienone, ma possiamo recuperare. In alto, la visita del ministro dell'Agricoltura, Bellanova dalla Pesca, nuove chance per i giovani, il ministro arriva a Cetara, qui può davvero nascere un modello di gestione basato sui principi della Blue Economy, un'iniziativa pilota da estendere anche altrove, lo ha detto ieri mattina a Cetara, il ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova. Andiamo di fondo, la scuola svolta a vicinanza, cortile ritrovato dopo 34 anni, e giostrine in dono, per l'ambiente, allarme frane, fondi bloccati, rischio di sesto in 40 comuni. Ci spostiamo a centro pagina, la sanità, bimbi disabili senza cure, budget esauriti in 17 centri, riabilitazione, la denuncia delle strutture private, poi la violenza, si fince donna e adesca ragazzini, sui social in carcere, un pedopornografo, arrestato 47enne Salernitano, adescava bambini e ragazzi, sui social utilizzando un'identità femminile, così da poter carpire la loro fiducia, per settimane parlava con loro, prendeva informazioni sulle loro abitudini, a volte si faceva mandare delle foto, se che poi scambiava con altri pedofili. Nella fotonotizia, la Salernitana al bivio, con l'assalto degli ex rebus centrocampo, col crotone. Ancora a prime pagine, andiamo ora invece, sulla prima pagina della città, che apre proprio con l'ultimo caso, che abbiamo visto anche dal mattino di Salerno, del pedofilo, vediamo, il pedofilo si finge fotografo, fotografa, scusate, per addescare bimbi, infatti lo abbiamo visto, si fingeva donna, per poter, per farsi dare delle foto dai bambini, Salerno con un pedofilo fake, scambiava le immagini di sesso, con minorenni in tutto il mondo, l'indagine arriva dagli States, l'uomo in libertà, fu arrestato per gli stessi reati, aspirava a fare l'animatore, proponendosi gratis alle agenzie. Nella fotonotizia, a centro pagina, il reportage, la resa dei contribuenti, in fila nell'inferno delle tasse, di fondo, Salerno, fonderie, comitati, no inquinamento, un dato di parte, e poi Eboli, vergogna provincia, c'è un commissario, per la via delle buche, a Sarno, lo scandalo del PIP, da fiore all'occhiello, assito per ecoballe. Nella foto, nelle notizie in basso, vediamo sempre a centro pagina, l'intervista a Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole, i sussidi veri, ai pescatori, e poi per quanto riguarda l'agricoltura, fondi attesi per 16 mesi, andiamo via, questo per i giovani, che decidono di investire in agricoltura. Di Spallano, c'era superiore molestia a scuola, Bidello scagionato, nel Vallo di Diano, Fienile in fiamme, nella serata di domenica, il racket si ripresenta, e poi ad Auletta, Auletta piange, Maria Pia, che per lei è stato disposto, la donazione degli organi, da parte dei familiari, e di sera, purtroppo è morta la ragazza, che è rimasta vittima, di un incidente stradale, nella sera del 4 dicembre. Andiamo sotto, in alto, sotto il titolo della testata, si parla di calcio, Salernitana e Lotito, perfetti sconosciuti, trovi al punto giusto, esageratamente compiaciuto di sé, Claudio Lotito, si è presentato, sugli schermi di Canale 5, all'indomani del successo, della sua Lazio, contro la Juventus. Andiamo in basso, Cava dei Tirreni, prete aggredito, dopo l'omelia, l'ira di un fedele, difendi coppie, homosex ed extra, coniugali. E poi, il controtendenza, il cilento si spopola, ma cicerale, riprende vita. Questa è la prima pagina di la città, andiamo ora sulla prima pagina di Le Cronache, vediamo, si parla invece, in questo caso, in apertura del caso Sanità, ed in particolare, dello stop, ancora una volta, ai fondi, e alle convenzioni, con i centri privati, per quanto riguarda, la riabilitazione, sui bambini, vediamo infatti il titolo, bambini senza riabilitazione, la solita vergogna, così titola Le Cronache, niente soldi, l'ASL blocca i servizi, i casi più numerosi, nell'agronocerino sarnese, i centri, hanno bloccato, le terapie, la protesta, delle associazioni. Andiamo, in alto, sotto il titolo, dell'attestata, verso le regionali, dei magistri, salveleno, determinanti, per far perdere, De Luca, non sarà governatore, queste le parole, del sindaco di Napoli, e poi, il fatto, Gesù nasce sul barcone, ed è polemica, per il presepe, allestito a Padula, Cirielli all'attacco. Centropagina, Blu Economy, pesca sostenibile, Bella Nova, si può fare, proposto un osservatorio, con base a Torre Vicerale, un punto d'incontro, tra ricercatori, operatori del mare, Blu Economy, il ministro presente, a Cetara. Ad Auletta, anche qui si parla, della morte, purtroppo, della giovane, ventitrenne, Maria Pia d'Estasio, che purtroppo, non ce l'ha fatta, dopo l'incidente, che si è verificato, ad Auletta, la sera del 4 dicembre, Maria Pia, purtroppo, è morta, al Ruggi d'Aragona, vediamo, Maria Pia non ce l'ha fatta, donati i suoi organi. A Baronissi, luce dell'Irno, Agnese Coppola, ha nessun vantaggio per il commercio locale. Ancora, a Scafati, feste in piazza il 2 gennaio, a Liberti, la organizzo io, Scafati, l'ex sindaco stuzzica, l'amministrazione, è salvati. Queste le prime pagine, ora torniamo sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi di carattere nazionale, partendo proprio dalla manovra del governo, si sta attendendo, l'ok per quanto riguarda la legge di bilancio, vediamo il titolo, tensione sui conti pubblici, manovra, allarme tempi, l'affondo di Mattarella, evasione indecente, l'estenuante trattativa nella maggioranza, rallenta il varo, fico e casellati, intollerabile, durissimo richiamo sulle frodi fiscali, senza più soldi per stipendi e pensioni. Il problema evasione fiscale è una cosa davvero indecente, perché i servizi comuni, la vita comune è regolata dalle spese pubbliche, se io mi sottrago al mio dovere di contribuente, sto sfruttando quello che gli altri pagano con le tasse che pagano. Queste le parole di Sergio Mattarella che risponde a braccio alla domanda di studenti ricevuti al Quirinale. La piaga, il problema, aggiunge, è di norme, di interventi, di controlli, di verifiche che stanno dando qualche risultato, ma soprattutto di cultura e mentalità. Replica a Mattarella l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini proprio sulla questione tasse che ribadisce invece evocando i 53 miliardi che lo Stato deve dare ai fornitori poi dice che però è altrettanto indecente una tassazione che supera il 50%. L'affondo del capo dello Stato arriva mentre in Senato si discute la legge di bilancio la maggioranza ancora discute su alcune misure marginali da inserire o meno nel maxi emendamento. Andiamo avanti Salvini avverte con questo modo di procedere si rischia l'esercizio provvisorio e poi i negoziati tra gli alleati stanno diventando sempre più complessi il nervosismo dei mercati. An in basso rinvio di sei mesi per le nuove intercettazioni il governo tenta il blitz sul mille proroghe e alla fine salta l'ipotesi di inserire in manovra il tradizionale provvedimento di fine anno. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo per continuare a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo sulle pagine della provincia del mattino e parliamo proprio di lucida artista le pagine di primo piano vediamo il food in volata ma lo shopping ha il freno tirato questo è il titolo con una prima analisi per quanto riguarda dal punto di vista economico della manifestazione lucida artista Salerno commercio il bilancio mese dalle luminarie Torrione è isolata acquisti in calo del 30% boom invece in ristoranti pizzerie e pub senatore del CLAI e la marca di Cidec vendite in crisi ovunque servono nuove strategie per attirare i clienti andiamo avanti sempre su Salerno hotel in B&B il flop divide ma il recupero è possibile calo di presenza all'immacolata perché è caduta di domenica meno visitatori anche in provincia le altre notizie Salerno Pulita incontro al comune stop al sit-in è stato revocato il presidio davanti al municipio comunale annunciato per questa mattina dalle organizzazioni sindacali di Salerno Pulita nella mattinata di ieri infatti è arrivata alle sigle sindacali la convocazione ufficiale per un incontro che si terrà giovedì 12 alle 12.30 al comune che vedrà presenti anche il sindaco l'assessore della Greca e l'amministratore unico della società chiudiamo questa pagina ancora il mattino andiamo avanti per quanto riguarda la sanità lo abbiamo visto anche dalle prime pagine ancora una volta stop alle cure riabilitative vediamo bimbi disabili le cure restano negate questo è il titolo la denuncia della casa di cura Villa dei Fiori esauriti i fondi in oltre 17 strutture senza terapie centinaia di bambini salernitani l'asla un budget inferiore alla media della campagna speriamo nell'aumento dei tetti di spesa promesso dalla regione e poi cross science medicina dopo due mesi la delegazione cinese saluta il ruggi le altre notizie su questa pagina centro pagina adesca ragazzini sui social in carcere pedopornografo preso 47enne salernitano i poliziotti trovano nel suo computer file con file scusate con minorenni nudi o in pratiche sessuali e poi la decisione mazzetti e giudici libero il manager lieto le sue condizioni di salute lo rendono incompatibile con il regime cautelare torna in libertà il manager televisivo Casimiro Lieto ai domiciliari nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta Gronzero che ha portato a Gallo un presunto sistema corruttivo all'interno della sezione distaccata di Salerno della commissione regionale tributaria per la sicurezza lanciano droga dal finestrino arrestati due giovani pusher queste ancora le pagine di primo piano andiamo ora invece sulle pagine della provincia di Salerno nell'area della Piana del Sele dell'Occilento dei Picentini e del Vallo di Diano vediamo le principali notizie si parte dalla Piana del Sele in particolare da Battipaglia vediamo Almirante Berlinguer sulle strade ai leader si inasprisce lo scontro l'intitolazione in memoria continua a scatenare polemiche Longo ribatte a gioia cerca applauso dalle associazioni antifasciste ad Agropoli niente messa a scuola è polemica al primo circolo niente benedizione al presepe i genitori protestano la dirigente assicura nessuna posizione contro la tradizione cattolica niente messe benedizione del presepe ma l'umore in città quella che era divenuta una tradizione per i piccoli studenti frequentanti i plessi del primo circolo didattico quest'anno si interromperà lo ha deciso il consiglio d'istituto innescando però qualche marumore tra i genitori degli alunni alcuni considerano la scelta un tentativo di cancellare le tradizioni locali vista la presenza nelle classi di tanti stranieri di credo e cultura diversa andiamo avanti di taglio basso ad Auletta schianto a Cerreta muore la 24enne donati gli organi non ce l'ha fatta Maria Pia di Stasio la ragazza di 24 anni rimasta vittima di un incidente stradale lo scorso 4 dicembre nel comune Natio la giovane lungo una strada ripida ha perso il controllo della sua auto ed è andata fuori strada andando a sbattere contro un albero nella zona di Cerreta il cordoglio della comunità è stata rappresentata dal sindaco Pietro Pessolano che più volte a nome della sua cittadinanza ha fatto visita alla ragazza Salerno durante i 5 giorni di agonia ad Auletta si sono tenute diverse veglie di preghiera e momenti di unione cittadina per far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza andiamo a Vallo della Lucania treni come carri bestiame SOS di Castiello ai ministri di spalla minaccia di morte l'ex 19enne finisce ai domiciliari minaccia di morte l'ex fidanzata la pedina per di più di un anno viene arrestato un giovanotto 19enne di Ponte Cagnano è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex fidanzata a Eboli fuochi vietati a Natale multe salate dal comune Chiudiamo le pagine del mattino andiamo ora sulle cronache partendo dalle notizie di carattere regionale ed in particolare in apertura si parla della serata al San Carlo vediamo stretta di mano tra De Luca e De Magistris al San Carlo alla serata di beneficenza era presente anche il Premier Conte un galà per promuovere l'umanizzazione negli ambienti di cura degli ospedali pediatrici italiani presentato dall'attrice partenopea Serena Autieri con la partecipazione straordinaria di Claudio Baglioni e poi il fatto De Magistris saremo determinanti per far perdere il Governatore De Luca la lista sarà forte e De Luca non sarà più il Presidente della Regione Campania queste le parole del Sindaco di Napoli su questa pagina troviamo anche la notizia della morte di Maria Pia di Stasio a Salerno dove era stata trasferita per le gravi condizioni e le gravi ferite riportate nell'impatto nello scontro che si è verificato il 4 dicembre l'incidente stradale vediamo Maria Pia di Stasio non ce l'ha fatta i genitori ieri hanno dato il consenso per il prelievo degli organi aveva perso il controllo della sua Fiat Punto finendo all'interno di un uliveto e poi torniamo a parlare di spalla di regionali Gubitosa Movimento 5 Stelle dovrebbe viaggiare dovrebbe partecipare da solo alla prossima competizione elettorale come si pensa Ciarambino come candidata che per Gubitosa sarebbe perfetta chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle cronache e andiamo sulle pagine della provincia di Salerno ancora vediamo si parla di Salerno pulita vediamo nessun posto di lavoro dovrà essere perso l'appello dei sindacati tutto rinviato fino all'esito dell'incontro il programma che l'abbiamo visto giovedì i sindacati chiedono certezze sul futuro dei 42 lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari giovedì incontro con il sindaco l'assessore della greca ai vertici della società andiamo avanti su questa pagina la curiosità Big Boards il progetto Melin Salerno tra innovazione e sociale la città sarà dotata della prima impiantistica pubblicitaria sulle facciate cieche dei palazzi e poi l'iniziativa che vede in campo anche i ragazzi di Casa Surace la simpatica iniziativa per favorire il rientro in queste festività natalizie vediamo Casa Surace aderisce all'iniziativa di Maiolica biglietto sospeso i giovani della factory hanno deciso di donare sei biglietti tra terroni ci si aiuta e oggi sono felice di annunciarvi che l'essenza del sud ha deciso di aderire all'iniziativa e diventare official sponsor della traversa TAM e questo l'annuncio di Stefano Maioli con terrone a Milano che per far ritorno a casa in occasione delle festività natalizie e fronteggiare i prezzi richiesti dalle compagnie di viaggio ha lanciato la campagna di biglietto sospeso una scommessa vinta per Maiolica che nei giorni scorsi attraverso queste colonne ha lanciato un appello agli imprenditori salernitani affinché almeno in futuro si impegnino a sostenere le iniziative lanciate proprio dai salernitani e a sostenere questa iniziativa nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio del nuovo sponsor Casa Surace la factory e casa di produzione nata nel 2015 da un gruppo di amici che nel 2018 ha inaugurato una casa di produzione a Sala Consilina Casa Surace ha deciso di sostenere l'iniziativa pagando 6 biglietti questo è l'annuncio di Maiolica dalle pagine Facebook chiudiamo questa pagina andiamo ora sulle sulla provincia sulle pagine della provincia le notizie quindi che interessano la provincia la parte più a sud della provincia di Salerno andiamo a Monte Corvino Pugliano consegnate agli alunni mille borracce in alluminio la distribuzione di bottiglie eco sostenibili rientra in un progetto più ampio dell'amministrazione comunale nei prossimi giorni saranno coinvolti delle iniziative anche gli alunni delle scuole materne ed elementari a settembre la giunta ha dato il via al progetto che prevede la distribuzione di acqua alla spina con l'installazione di ulteriori tre case dell'acqua a Rocca d'Aspide comunità in festa per il ritorno di Alessia finalista allo Zecchino d'Oro e ancora Montesano sulla Marcellana a pochi giorni dalla frana riapre la strada verso Tardiano proseguono i lavori a Montesano per la frana che ha interessato lo scorso 25 novembre le strade che portano a Magorno e Tardiano dopo il sopralluogo del genio civile avvenuto il 28 novembre sono partiti i lavori di ripristino della sicurezza del sito a Corletto Monforte immacolata all'insegna della scoperta del territorio l'iniziativa del consigliere Roberto chiudiamo questa pagina andiamo infine sempre su una pagina dedicata alle notizie della provincia di Salerno vediamo Eboli servizio trasporto scolastico per l'importo di 22.584 euro è stato approvato l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura si punta ad ottenere 5 manifestazioni di interesse soglia sotto la quale il comune si riserva di ricorrere all'affidamento diretto consentito a Polla balle di fieno in fiamme si indaga sulla matrice del maxirogo vorrei sapere cosa ho fatto per meritare questo comunque non demordo e già da subito reagirò rimettendomi al lavoro circa 400 balle di fieno in fiamme a Polla sulla strada che collega i centri di Polla e Sant'Arsenio il grosso deposito è situato nei pressi del cimitero sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consiglia con il caposquadra Bruno Ernesto al lavoro per spegnere il maxirogo e l'ennesimo incendio simile nel Vallo di Diano un atto che ha dello scuro e che con probabilità è di natura dolosa Cordoglio nel Vallo di Diano è morta a Roma Adriana Esposito vedova dell'indimenticato senatore Enrico Quaranta le secque si sono svolte a Roma nella chiesa di San Crisostomo dove è stata presente una delegazione del gruppo San Pietro in movimento e di spalla Capaccio Sofianna Starnelli neocomandante della Polizia Municipale ancora a Padula Gesù Bambino nasce su un barcone di immigrati e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45 grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata a a a a Autore dei sovrapposti